Ed ora vedremo Giulio che si accinge a scendere questa calata dal più o meno 15 metri. Ah, forse 8. No, come 8. Vediamo Giulio che si affresza a scendere. Ti fa sicurezza Giulio. Ti fa sicurezza Giulio. Fai sicurezza. Eccola. Assicuralo eh. E' l'unico che c'è la muta. Che spettacolo. Un'impressione su questa calata, signor Capoccioni. Da quando lei fa il bagnino veramente si può ostinare ad andare sotto l'acqua. Oddio. Che pelliccia. Mannaggia Baldoni.